Scusatemi, 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 scusatemi. Scusatemi, sto andando dalla mia ragazza. Ma c'è la fila. Tutto a posto? Sì. Vado dalla mia ragazza. La ragazza. Scusatemi. Oh, ma sei in ritardo. Guarda, i cinque minuti sono passati a un quarto d'ora. Non hai capito? Non mi partiva il motorino. Eh, va bene. Oh, l'hai visto che c'è lì dietro? Sì, me lo dici dopo. Ma quando mi faccia il video? No, ma voi. Ma se hai dei biglietti per la sala? Ma la mia, quanta c'è? No, va bene. Benvenuto al cinema. Quanti sono i biglietti? Prego. Vabbè, ma è uno scherzo. Il cinema non scherza mai. Dai avanti che ci rarrentate la fila. Mia, mia! Vabbè, io allora vado a prendere i pop-corn. Ecco qua. Pop-corn e coca. Ma lei è? Sì. So, 10 euro. 10 euro, sì. Beh, che volevo fa? Ah, sì. No, no. Magari, ho il terzo armato di neve. Sì. Devi dirle. Sì. Salve. Salve. Grazie. E forse la sinistra. Arrivederci, buonasera. Ciao. Ciao. Info dal corridoio a destra. Tutto a posto? Camminare, su. Buonasera. Buonasera. Non male, eh? Infatti, non male. No, dicevo, dicevo il film, non male. Il film? Sì, no. Bella scelta. Bella scelta. Io lo vedo con Luca, io. Ecco qua. Oh, mi scusi. Ah, c'è Luca. Salve, buonasera. C'è Luca. C'è Luca. Buonasera. Buonasera. Biglietto? Prego. Scusi. Scusi. Non puoi spiegare cosa sta succedendo? Niente. Siamo tornati. Popcorn? Signorina. Mi raccomando, al cinema, niente cellulare. No, scusi. Buonasera. Vi preghiamo di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo. Il film sta per cominciare. Mi scusi. Che mi sono perso? Mi raccomando, 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 mi raccomando. Grazie.